Presentemente l'imperatore in legge spedito l'inglese e col aiuto del dizionario può fare senso di lui, dalle manifesti progressi lo incantano. La lezione consiste a questi oggi nel leggero e in secolo pedia britannica. L'articolo nilo, nel cui prendeva qualche notte per i suoi dettati al Gran Marisciano, ritrovò una citazione di cui io giù prima aveva discorso all'imperatore, e che sino allora stiomava non vera i grandi albercherchi che proponeva al re di Portogallo le deviare al Nilo, prima del suo entrare nella fallata d'Egitto verso il Mar Rosso, ciò che avrebbe reso quel paese un deserto impraticabile e fatto del capo di buona speranza l'unica via per commercio delle inni. Bruce non credeva a queste cicadesche idee del tutto impossibili e Napoleone rimanevano singolarmente colpito. Verso le cinque ore l'imperatore montò in cadesse e il passeggio riuscì oltremodo gradavoli. Il taglio dei monti alberi ne triplicò il primitivo spazio, formando molti circuiti naturali. Al ritorno si vuole profittare della bella serata col passeggiare lungo tempo nel giardino. La conversazione fu interessantissima e tenso gli argomenti di grande e profonda importanza. Si parlò sulle varie religioni, sullo spirito che le aveva dettate, sugli assurdi e cui erano stati confusi, sugli eccessi cui si condussero e le obiezioni loro opposte. L'imperatore ne discorsi con la sua ordinaria superiorità. L'imperatore lessi oggi l'articolo è scitto dall'Encyclopedia Britannica in inglese e ne raccolsi varie note di molta utilità per la sua campagna d'Egitto. Questo è un pratico fantaggio che fa più volte ripetere quanto sia contento dei suoi progressi. Infatti egli più ore leggeri da sé solo. Verso le quattro ore, seguì l'imperatore nel giardino. Vi passeggiamo soli per qualche tempo, poi si aggiungero gli altri. La temperatura era molto dolce e l'imperatore ne trassi argomento per farci osservare la calma della nostra solitudine. Era di domenica. Tutti gli operai trovavessi lontani, così a Shunchef non ci si potrà accusare almeno di dissipazione o di seguire troppo ardentamente i piaceri. Più uniformità e meno distraizioni non si possono dare. L'imperatore supporta queste infelici condizioni in modo veramente ammirabile. De molto avanze noi tutti per l'uniformità dei caratteri e la serenità di spirito. Difficilmente osservava potessi essere più tranquillo di lui. Corri quasi alle dieci e non si alzava o piuttosto non si faceva vedere che alle cinque o sei ore della sera la sua vita esterna non durava più di quattro ore. Era quella del prigioniero che ogni giorno è tratto fuori dal carcere per farli respirare o un po' d'aria libera. Ma quanti pensieri nelle lunghe e molte ore passate nel ritiro della propria stanza? Quanti lavori? Nel rapporto al lavoro l'imperatore diceva che non si era mai trovato così forte e ne meravigliava pensando a grandi avvenimenti di cui negli ultimi tempi era stato l'egetto. Li comparava il piombo che scorre sul marmo e penso aveva potuto comprimere la mola e non annientarla. Essa si era rilevata con tutta la sua elasticità. L'imperatore aggiungeva non credere che vi avessi alcuna cosa e piegavano come lui sotto le remediabili necessità. In questo stato appunto diceva il vero impero delle ragioni, il vero trionfo nell'anima. L'ora del caessi sciuntzi, nel ricorso verso lo sportello scorso la piccola Hortensia, la figlia di madame Bertrand che ha indevagli molto a genio, la chiamò, l'abbracciò tenere a mente due o tre volte e sei la presse in legno col piccolo e triste anno di Montadon. Lungo la corsa, il gran marsciallo che aveva percorso i giornali arrivati, narrava diversi dei morti argotti e caricatori che vi aveva ritrovati. Ne disse uno molto piccante. Due azioni contenevano il quadro. Nella prima Napoleone dava alla principessa Tazfeld la lettera cui era attaccata la salvezza del suo marito affinché la distruiscesse con sotto alto tiranico di un usurpatore. Nella seconda terza è fatta la dama della battaglia e il suo figlio. Potessero nati al piede del re che li respingeva mentre a qualche passo si fucilava i padri e il marito con sotto alto paterno delle fissime età. Questo ci trasi naturalmente ad escurire l'imperatore delle molte caricature che vi hanno inodato l'Europa dopo la ristorazione. e in grineria si è specialmente quando si vengono a dirgli di quella rappresentante del castello delle tuilerie. Un truppo d'occhi e di pollettini entravano dondolando per la grande poeta nel palazzo e al tempo sceso e cifre dalla finestra superiore un'aquila della grande aria. Allontanandosi con un volo rapido e alto soffrontone si leggeva un gangiamento della dinastia. L'imperatore osservò che se qualche volta le caricature fanno le vendette delle sfinture, sempre imprendono di mine i poteri e quante non se ne fecero, su di me feceva. Allora ne chiesse se ne ricordassimo alcuna fra tutti quelli che noi gli citamo. Una ne trovo bella e di buon gusto. Era il vecchio Giorgio III che sulla costa inglese leggeva incolera contro la testa di Napoleone fermo sulla costa francese. Un enorme barbitolo. Se lavando, vai a farti zucchero. Grazie. Grazie. Grazie.